Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento da due a quattro zampe in compagnia di Silvia Carta, buongiorno Oggi andiamo a parlare di un animale un po' piccolo che può far paura a tante persone ma in realtà non è così, è del topolino Questo topolino è un topo comune a quanto so io? Sì, è stato selezionato il colore, il topo selvatico ha come sappiamo tutti un colore grigio più o meno intenso Sono state poi selezionate delle specie con una colorazione del mantello un po' diverso, lui appunto è bianco e nero Ho capito, senti questi topolini hanno bisogno di cure particolari a parte vivere nelle gabbie perché se no ci mangerebbero mezzo mondo in casa No, diciamo che il topo è un animale piuttosto semplice da gestire, non richiede cure particolari Se non ovviamente una gabbia adatta e un'alimentazione curata E come alimentazione che cosa mangia un topo? Allora, i topi mangiano delle miscele di semi costituite da avena, mais, miglio, girasole Quest'ultimo deve essere sempre presente in quantità abbastanza limitata perché è povero di proteine, vitamine e calcio Mentre è molto ricco di grassi e colesterolo per cui tende a farli diventare obesi Belli grossi Sì, belli grossi Va bene anche un pellettato apposito per topi che però non è facilissimo da reperire in commercio E poi un'integrazione di frutta, verdura, qualche biscottino, dei pezzetti di pane Volevo chiedere una cosa, il topo porta delle malattie infettive? Allora, il topo in natura può essere portatore di malattie infettive In modo particolare la più temuta è la leptospirosi Che si trasmette con le urine del topo È però vero che un animale sano non trasmette patologie Comunque non parliamo sicuramente del topolino domestico In questo caso Come possiamo vedere se il topo è sano? Esistono dei vaccini, esiste un controllo medico? Allora, sì, è sempre buona norma quando si acquista un animale Portarlo ad un controllo dal veterinario Qualunque animale questo sia Nel topo in particolare si fa una visita clinica Si valuta la vivacità, l'appetito Si valuta le condizioni delle feci Si fa un esame parassitario Si dà un'occhiata al pelo Vaccinazioni? No Non viene sottoposto a vaccinazione il topo Ho capito, un animale attivo ha bisogno della ruota, dei giochini Che qui per questa gabbia non ci sono Però so che esistono quei tubi È consigliato metterli? È consigliato purché siano costruiti in maniera tale Che lui non ci si possa incastrare Che le zampine non possano rimanere impigliato È un animale molto attivo il topo È in natura un animale crepuscolare e notturno Però estende la sua attività anche alle ore del giorno È un animale che ha bisogno di essere distratto Ha bisogno di giochini Possono andare bene anche per esempio dei tubi di cartone Quelli dello scottex E inoltre sarebbe opportuno farlo uscire almeno per un'oretta al giorno Ovviamente assicurandosi che non possa infilarsi nei buchini Rosicchiare fili elettrici Ho capito, ci sono delle altre precauzioni da prendere per il topolino O possiamo dire ai nostri ascoltatori Prendete con il topolino una compagnia? No, appunto, come dicevamo prima Curare l'alimentazione La lettiera deve essere sempre mantenuta pulita Una volta alla settimana È importante lavare tutta la gabbietta Disinfettarla e risciacquarla accuratamente Tenerlo lontano dalle correnti d'aria E in una zona della casa tranquilla Poi non richiede delle cure particolari Un animale molto semplice da gestire Due domande Una è, quanto vive un topolino? Un topolino purtroppo non vive molto La vita media di un paio d'anni possono arrivare fino a tre Ecco, quindi è brevissimo Sì, è brevissimo Cioè, dobbiamo accontentarci di starci insieme Pochissimo Pochissimo, sì Un'altra cosa, il sesso è importante nel topo? Allora, il sesso è importante Soprattutto nel momento in cui vengono tenuti più individui Perché due maschi difficilmente possono coesistere Mentre più femmine invece riescono ad ambientarsi Sì, stabiliscono una gerarchia Però vivono bene insieme Creano un po' un harem in teoria Sì, sì, in natura Sì, si crea un harem Ma come carattere è più socievole il maschio o la femmina? Ma con gli altri animali probabilmente la femmina Però in linea di massima non ci sono differenze sostanziali da questo punto di vista Abbiamo visto il topo che fa i movimenti con le mani nella bocca Che cosa significa? Cosa fa esattamente? Si lava Si bagna le zampine con la saliva E poi con questa si pulisce tutto il resto del pelo Le orecchie si gratta Quindi è un animale pulito? È un animale pulito, sì Al contrario di quello che si dice È anche un animale che non ha Se la lettiera viene tenuta pulita Non emana un odore forte Ho capito Soprattutto lontano dai gatti, mi raccomando Vi diamo appuntamento alla prossima puntata Di da due a quattro zampe